let's go mutilare blupetti in questo nuovo video di rispettamenti di carte pokemon oggi andremo ad aprire la team di samuroth di isui direi proprio di cominciare ad aprirla ok ok perfetto vediamo un po com'è ok questa è la carta di samuroth di isui veramente molto bella ecco come sempre c'è il codicino e come sempre regalo a voi vediamo se riesco a mettere a fuoco ok no perché ok perfetto e qua abbiamo le nostre solite 4 bustine quindi abbiamo 2 lucentezza siderare con dialga e palchia poi abbiamo un colpo fusione e un fiamme oscure devi cominciare con fiamme oscure spostiamo tutto e vedere cosa troviamo ok codicino 1 2 3 4 1 2 ok non mi sembra aver scritto niente allora si vede allora si vede ok perfetto passimian fibas sinistea kufant wishiwashi energia fumogeno simiseige karang oh torkic è un bellissimo opa veramente molto bello ok adesso andiamo con colpo fusione ok perfetto l'abbiamo aperta codicino codicino ho cambiato ad udire videocamera del telefono quindi spero si veda meglio 1 2 3 4 1 2 ok ok snorlax snom trepi makuita rocchidi energia fosco scambiatore incrociato croconav skitty e stealth veramente molto bello ok andiamo con lucentezza siderare e vediamo un po' cominciamo con parcia se riesco ad aprire queste bustine perchè non so perchè oggi non riesco ok apri anche da qua allora codicino e vediamo possiamo trovare un parcia visto che abbiamo il porto 2 di alga 1 2 3 4 1 2 ok spero sia giusto ho fatto sbagliato non so se ho fatto giusto il trick ok cheater eeve rufflet quiche fish di isui un altro quiche quiche fish di isui energia yanmega palude bocca larga magneton pavniart e apidash ok andiamo con l'ultima bustina di gente sederare con di alga e speriamo in qualcosa di interessante a me andrebbe bene anche un doppione dai se vediamo un altro di alga per noi va benissimo e non riesco ad aprirle oggi va bene ok ok Allora, qui abbiamo il codicino E vediamo un po' No 1, 2, 3, 4 1, 2 Potrebbe esserci qualcosa, non ne sono sicuro Speriamo Vediamo se esco ok Si vede bene Trifron, Sudovudo, Combe, Oshawott, Othott, Energia, Hazelt, Sheldon, Uzie E abbiamo, ok, molto bello, un Cravor e un Leifion Ok, veramente molto belle queste due carte Ok Io adesso vi saluto E vi aspetto domani Con La collezione Di Esegurto di AlolaV Di Pokémon GO Ciao ragazzi E vi aspetto domani